Mettete dei fiori nei vostri cannoni. Qualche decennio fa c'era chi invitava cantando a mettere fiori nei cannoni. Oggi si potrebbe titolare violini al posto dei Kalashnikov. Purtroppo la sostanza è che la musica non cambia, almeno quella che produce rumori di guerra. Eppure, come ha detto oggi a Chieti il maestro Jablonski, che dirige i virtuosi di Kiev ospitati in città, la musica è, o dovrebbe essere, strumento di pace. Nell'accogliere questa orchestra concretizziamo una sottrazione di fatto di questi stessi musicisti ad andare sul fronte di guerra in Ucraina. E quindi questo è il primo aspetto rilevante di natura sociale. E poi c'è l'alto riconoscimento al nostro teatro come teatro prestigioso e quindi per un aspetto culturale il teatro malucino si, ancora una volta, certifica la propria autorevolezza nel panorama nazionale e direi ancora di più internazionale. Quanto tempo saranno ospitati dalla città? Ma il tempo sarà e si dovrà definire, diciamo così, cammin facendo in base anche agli sviluppi della guerra. Per un anno sicuramente abbiamo trovato una fondazione di mecenati che supporteranno il loro permanere in città e quindi, insomma, questo aspetto è anche importante, oltre il fatto che si esibiranno nel corso di questi mesi. E a proposito di esibizioni, il primo concerto dei musicisti virtuosi di Kiev si terrà il 26 maggio alle 21 alla Marruccino. È un chance fantastico per stare qui con l'aiuto del sindaco, l'aiuto del teatro americano di Giuliano Passacante e anche il compositore in residenza, Alexian Shore, che ha aiutato molto per noi che possiamo venire qui. E spero che possiamo fare dei concerti qui, anche fuori dai chiesi in Italia. Il teatro, non posso dire, non c'è parole per dire il bellezza di questo teatro, fantastico, veramente, posso dire alla italiana, alla piccola, alla scala, fantastico. Io sono ebreo, dunque io non posso suonare Bach, Schubert e Brahms, è completamente ridicolo, dico io. Però la situazione, per esempio, in azerbaijan non posso suonare Khachaturian, in armenia non possiamo suonare Karakaraev, azerbaijan. Per me questo è completamente ridicolo. Anche in Israele noi non possiamo suonare Wagner. Però in Bayreuth c'è il direttore di orchestra ebrei, come Barenboim, che dirige Wagner. Io ho uscito dall'Unione Sovietica con molta difficoltà con mia mamma, nell'anno 75-76, ho passato sei mesi a Roma. Dunque in Italia questo abbraccio a tutto il mondo che... In Italia può suonare tutte le musiche che vuole. Sì, però anche l'Italia politicamente sempre ha detto benvenuti ai rifugiati, per passare due mesi, 20 anni. E questo, io penso, è fantastico, è il paese più bello del mondo. E questa storia è un museo in tutto l'Italia, è un museo grande per me.